Alice Ricciardi von Platten è stata una figura centrale non solo per Cortona ma proprio per la storia e per il processo di Nuremberg. Chiamata come uditrice al processo dei medici nazisti, che è stato il secondo dopo quello più famoso contro i crimini di guerra, appunto ebbe modo anche di scrivere un interessantissimo libro dal titolo Etonasia e i malati di mente che venne boicottato totalmente immediatamente dopo la guerra ma che ebbe un grandissimo successo negli anni Ottanta. Quindi oggi la ricordiamo, ricordiamo questa grandissima figura che è anche cittadina onoraria, che è stata cittadina onoraria della città di Cortona. Quando Francesco Attesti mi ha chiamato per fare questo intervento e leggere alcune cose tratte dalla Shoah, io subito di getto ho detto sì. Poi preparandolo mi sono accorto di una cosa fondamentale che non era adeguato, non tanto come attore, quello sarebbe il meno dopo tutto quello che ho fatto nella mia carriera. Io penso di non essere adeguato come essere umano, ma chi potrebbe essere? Chi potrebbe essere? E allora mi sono detto, io ho un unico modo per fare questa cosa, non interpretare, ma leggere. Le parole sono così dure, pesanti, che bastano a loro. Io sarò solamente una voce che dice delle parole e spero che questo sarà d'aiuto.